Musica Questa strada porta, wow, che l'ho perso, al massiccio del Club Kun Lai. La fortuna arriva a coloro che la percorrono per andare a fare compri nei negozi di Grumian. E quindi penso che solamente per completezza la percorreremo. Passo velato sentiero dei 100 gradini, come quei cazzo di cose... Guarda come sono consumati i gradini, cazzo, tutta la gente che ci passa sopra. Qui un sentirino, un caprone selvatico di montagna, un piccolo bivaco dove consumare cose, dove mangiarle. Guarda quanto cazzo si sale. Ciao caprone selvatico di montagna. Qua ho il sentiero Vira. E dove siamo arrivati? Eeeh. Taverna nelle nebbie. State tutti zitti. Qui c'è il maestro... Possiamo trovare un accordo. Ah no, l'ho già fatto sta roba qua. Bene, caspita. E qui dentro? Buongiorno. Taverna nelle nebbie. Ti cerchi qualcosa da comprare. Vorrei acquistare qualcosa. Che cazzo di roba hai qua dentro? Mai vista sti cazzo di cose. Qual è l'equipaggiamento che mi dà la tempra? Scagli un anguri la posizione del bersaglio. Beh, monile è bello, ma insomma anche no. Questo è di piastre, quindi lo buttiamo via. Questo qua... Sì, direi che non ho niente di speciale. Questo qua anche ho cosa mi serve in più. Questo qua ci possiamo pensare. Ma mi dà meno due in cavo blu, quindi magari no. Questo qua è una roba figa, che però non mi interessa, nonostante sia bella. Mentre la mazza... Diciamo che della mazza si può parlare. Questo cos'è? Missiva del bla bla bla. Questo qua è roba da mangiare. Bene. Qua sopra dove cazzo devo andare? Parlato con il maestro birraio. Devo seguire... Devo continuare a seguire la cosa. Grazie per insomma per la... Eh, eh, eh. L'ospitalità, ma io devo andare a parlare con il maestro birraio. Ara? C'è un compagno con il... Con il cavallo di Hearthstone, che è esattamente il mio stesso punto. A me hanno suonato la porta e quindi il tipo ha preso il largo. Qui che cazzo di cosa avrei? No. Non devo fare nulla. O quantomeno non adesso. Continuiamo a salire. Vediamo cosa succede qua. Devo prendere furtiva al mercato nero. Ma state tutti zitti. Continuo ad andare su. Buongiorno. Cosa ti serve? Freccia della primavera. Vai del Kunlai, salto solo, va che ti adoro uno strappo. Sopravvivi al viaggio a bordo della freccia della primavera. E la Madonna. E avvicinarti a un bersaglio. Ok. Se mai stato premere il Kunlai è meraviglioso, serene terre coltivate, montagne meravigliose, e assolutamente nessun pericolo. Sì, ma gli Ozen attaccano i Grumbiando. Come cazzo si chiama? Madonna santa, che figata. Acque cristalline sotto una caverna. No, 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 signori. Cioè. Sono belle queste ambientazioni, eh. Cioè, posso capire chi dice che Mist of Pandaria sia una roba da bimbo minchia, ma... Ma wow. È veramente bello, eh. Vedete la calma d'accordo dei... Quella bestia è trattata di colpirmi. Sì, ma non fare la checca, cazzo. Perché sono così checca? Te la sei cercata, hai girato l'incenso per lo sotto il suo viso. Un momento c'è qualcosa che non quadra. Ecco, lol. Questo qua che è di sangue a spiriti? No, che cazzo succede? Qua c'è il maestro birraio. Io devo parlare. Arriviamo. Che cazzo succede? Ho scoperto Binan. A parte il fatto che devo prendere il punto volo, perché le priorità sono sempre una cosa importante. Cosa hai detto? Uno straniero chiesse qui per salvarci dagli young wall. Ma che cazzo di nomi sono, porca puttana. Vabbè, adesso vedo un attimo cosa c'è da fare qua. Perfetto. Dov'è il maestro birraio? Mastro birraio. Mastro birraio. Tutte le strade. Lo speziale. Sindaco braccio pruno. La missiva. Va bene, accetto qualunque cosa tu mi abbia dato. E vado anche da questo qua, che è lo speziale Cheng, che mi sa di roba cucinosa e quindi... Ricetta di famiglia. Usa il balsamo di tigre o la tua magia per curare 8 guerrieri di Binan feriti. Va bene, va bene, va bene. Faccio un po' queste missioni qua e poi vi dico com'è andata. Alla fine quella missione dove ero lì mi aveva riportato tantissimo fuori strada, quindi per cui ho dovuto prendere un volo per ritornare indietro a vedere se effettivamente potevo ritornare sui miei passi. E adesso, quanto vedo qua, in linea teorica, questo qua è un villaggio dove dentro c'è la persona alla quale devo parlare per imparare a cucinare. Notare che questo è pioviginando, d'accordo, e questo cazzo di ambiente rurale, risai e cose è magnifico, è disegnato da Dio, d'accordo? A me dispiace per il detrattore di sto gioco, ma è fatto fisicamente bene. Punto. Anche se le quest sono una merda, perché effettivamente ho fatto un raid di pandari e fa cagare. Comunque sia, sta roba è fatta bene, punto. Allora, dove cazzo è questo tizio? Dioppa là! L'agilità felina! Ti piace cucinare? Adoro allora la fortuna ti sorride perché adoro aiutare gli aspiranti chef. Oh, chef! Tutto ciò da comprare in cucina, lettera zampaforte, ciao Max, è da un'ora che ti cerco. What the fuck? Saluta YouTube, comunque. LOL, ciao, ciao, ciao. Allora, voglio addestrarmi nella cucina di Pandaren. Cuoco esperto, un gold. Pesche tagliate, spaghetti istantaneamente, pesce tostato essiccato, funghi, chiodini essiccati. E questa qua è tutta roba che tu sai, vero chef? Caro il mio chef, quindi vuoi imparare a cucinare? Impara la ricetta per le pesche tagliate nella guida delle traduzioni. Fatto. E adesso? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ecco, devo cucinare le cose. Ah, no, questo è derbalista. Dovrei fuori. Dai, tra poco sarai al 100. Peppe nero, paella. Aspetta, aspetta, aspetta che devo tirar fuori la mia ricetta di cucina. Allora, cucina. Funghi chiodini devo trovare. Direi, gente artigianata. Dove si trovano i funghi chiodini? Hai tu i funghi chiodini? Non hai tu i funghi chiodini, chiaramente. Dove sono i funghi chiodini? Funghi chiodini, funghi chiodini, funghi chiodini. Qui tra l'altro dice, no? Missione. Impara la ricetta per le pesche tagliate. Vuoi diventare un cuoco? Beh, se ci metterai impegno posso portare alla luce il tuo potenziale nascosto. Non importa quanto inesperto tu possa essere. Eh, paziente come te, chef. Se vuoi apprendere, mostrami che sai almeno eseguire le istruzioni di base. Impara come tagliare a fette le pesche e poi mostrami cosa hai imparato. Ho delle fresche pesche di pandaren che posso venderti a un prezzo di cortesia. Quindi effettivamente questa tizia potrebbe... No! Questa tizia, ho bisogno di materiale per le lezioni di cucina, le pesche di pandaren... Madonna, quanto cazzo costano? Va bene, devo comprarle cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Perfetto. Grazie, signorina. Allora, apriamo la cosa di cucina. No, non i funghi, i chiodini, ma devo trovare le... Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Eccolo qua. Le pesche tagliate. Crea. Richiede fuoco da campo. Per tagliare delle pesche ho bisogno di un fuoco. Va bene. Questo è un fuoco da campo? Diciamo che questo è un fuoco da campo. Aiuto! Fuoco da campo? Griglia! Sì, lo considero fuoco da campo. Capito? Altro che tagliere, chef. Serve il fuoco da campo per tagliare le pesche. Pane fresco. Guarda qua la gente che fa i sushi, le cose. Cinque pesche tagliate. Adesso posso consegnare la mia ricetta. Eh? Quindi vuoi imparare a cucinare. Ecco qua le pesche tagliate. Molto bene, sai come apprendere. Posso insegnarti molto e la maggior parte degli ingredienti che ti serviranno per imparare. Fai pratica con me, va bene. E adesso cosa devo fare? Scusas. Adesso probabilmente mi metterò a fare tutte quante queste ricette che chiede Satizia. D'accordo. E dopodiché, boh, cos'è sta roba qua? Funghi chiodini che però ancora non ci sono. Poi c'erano gli spaghetti istantanei. Andiamo se ce li ha. Spaghetti istantanei, spaghetti istantanei. Ah no, funghi chiodini. Tocce io qua. Uno, due, tre, quattro, cinque. Crea tutto. Splotch. Cazzo, mi fa salire di cinque la professione. Ecco cos'è sto più cinque. Wow. E io che mi perdevo tempo a cucinare i coyote, porca puttana. Eh, chef. Che roba è, ah? Porca puttana, io continuo fino a quando non... Eh? Crea tutto. Continua fino a quando non arriva al massimo, cazzo. No! È finito. Forza di preparare spaghetti? Basta. Dove siamo qua? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Funghi chiodini essiccati? Vendi. E gli spaghetti istantanei dove cazzo sono? Spaghetti! Boh, va bene, sti cazzi. Insegnami qualcos'altro. Voglio destrarmi nella cucina. Fa dei mie del dolce riso battuto. Rigenera 20.000 di salute. 11 di celerità. Cioè, cos'è? Pesantissime, eh? Ah, poco esperto, tra l'altro. Eccolo qua. Dolce di riso battuto. Ma pensa un po' te. Dov'è? Nel frattempo che io faccio le mozzarella di Jack, ci sono i miei scritti che fanno note, evocano demoni, ci sono i più... Ma perché ho degli scritti così squilibrati, Cristo santo? Guarda, chef, guarda come sono bravo. Sono diventato un cuoco esperto. Ho 225 punti di competenza. Adesso sono qua che faccio le pupa di bacco da seta. Cioè, tu le sai cucinare, chef, i pupa di bacco da seta? Perché io non credo. Sono un cuoco casalingo, chef. Adesso mi hanno detto che devo fare una carpa dorata. Io non c'ero la carpa dorata. Tu c'hai la carpa dorata, chef? Perché io sono rimasto senza. Non è ancora grande inverno, ho del lavoro da fare. Io ho bisogno di una carne da pesca, penso, per cucinare la carpa. C'è un esperto di pesca qui. Pesca, 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 pesca. Tu, che sei un quartermaster dei coltivatori. Vorrei acquistare qualcosa. No, non vorrei ascoltare... No, stavo scherzando. Qualcuno mi dà una carne da pesca? Per favore, carne da pesca, carne da pesca, carne da pesca. Questo qua, co, co... Eh? Gli inzampaforte. Ma cos'è, ravioli di gamberetti? Ma che cosa cazzo mi insegnano qua? Salute. A te a zampaforte delle carote trifolate? Io vorrei una carne da pesca. Carne da pesca. Magazzina, cucina. Hai tu una carne da pesca? Cesto per porro rosso vuoto. What the flying fuck? Il prossimo lo offro io. E bobo zampaforte. Che mi insegna il tè in ginseng. Voglio una canna da pesca. Il mio regno per una canna da pesca. Per favore. Guarda, chef. Ho capito dove si prendono le carpe. Ho trovato un pescatore qua. Ti interessa un piccolo segreto sul dove vale la pena pescare oggi? Qui a Pandaria non è nemmeno necessaria la canna da pesca. Perché le acque pullulano di pesci. Con un po' di attenzione non sarà difficile catturarne qualcuno. Provaci. Pesca 5 carpe dorate. Provaci senza usare una canna da pesca. Per pescare clicca semplicemente sull'icona pesca nel pannello delle professioni. Fai attenzione al galleggiante. Cliccalo quando lo vedrai muoversi per catturare la tua preda. E ovviamente accettiamo la missione. Qua tra l'altro dice... Mi piacerebbe la energia a prendere un segreto. Bla 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 bla. Va bene. I pesci di Scorpio si trovano in questo punto della Mava presso le coste. E lui mi può fare vedere. Non so neanche come pescare. Ah, ecco. E adesso? Adesso posso pescare. Ah, è per caso delle forniture da pesca. Che magari, insomma... Andiamo, eh. Aspetta, adesso P di professioni. Andiamo sulle professioni. Dov'è la pesca? Dov'è la pesca? Dov'è la pesca? Eccola qua la pesca. Facciamo un bel maiusc. Eccoci qua. E adesso pesca. Ailo? Adesso aspettiamo. Aspettiamo. Chef, aspetta con me, eh. Chef, devi stare qua vicino a me perché altrimenti se mi scappa il pescio... Eccolo! Ah, hai visto, Chef? Come sono bravo, cazzo! Guarda, adesso lo rifaccio, eh. Guarda che c'è la barra di pesca sotto perché anche tu ce l'hai quando vai a pescare la barra della pesca. Dimmi che anche tu ce l'hai la barra della pesca, Chef. Eccolo! Ah, ah, la carpa dorata! E adesso che ne ho prese cinque, Chef, andiamo. Eh? Mi dà dieci carpe dorate a caso. Yeah! E adesso pesco come uno stronzo. Vediamo, B. C'è dieci carpe dorate. Ma se io mi faccio un fuocarello da campo... Ah... Posso fare la vellutata di carpa dorata, Chef! Quante cose che mi insegni! Ma sei proprio bravo, cazzo! E io che ti insulto sempre a lavoro. Brava, brava. Sei proprio brava, Chef. Ecco, Chef, guarda che bello, guarda che bello. Tipo, adesso sono andato e mi hanno detto devi fare i pesci. Ho preso tipo cinquanta carpe, così non ci penso più. E adesso, anche se ce l'avevo la ricetta d'arancione, mi sono messo a fare funghi chiodini perché metti che mi serve dopo avere altre carpe e non è che voglio andare, cazzo, a di nuovo pescare, che mi fa schifo. To, Chef, hai visto? Dopo la vellutata di carpa dorata, il pasticcio di pesce, adesso mi insegnano a fare il pesce al curry verde. E quindi io ho fatto bene a non cucinare tutti i cazzo di pesci prima perché adesso ho bisogno di nuovo di pesci, ma ho bisogno anche di riso. E quindi compriamo tutto il riso della terra così mi insegna a fare la carpa dorata con il riso. Chef, ma quanto ti voglio bene io? Quanto ti voglio bene? Voglio un aumento da quanto ti voglio bene. Grazie, Chef, ti voglio bene, cazzo. Chef, al stesso che sono arrivato a questo livello mi hanno dato la missione pronti per la grandezza. Sembra che tu sia piuttosto abile in cucina. dimostrami le tue abilità e prepara cinque budini di riso. E se preparo i cinque budini di riso e li consegno alla guida delle tradizioni, apprenderò la skill di gran maestro zen cuoco e avrò l'emblema degli zampaforte. Chef, quante cose che mi insegni, Cristo il Signore! Come si fa il budino di riso? Lo so già fare, chissà se lo so già fare il budino di riso. Eccolo qua, sono le ultime due ricette che posso imparare. Dopodiché tu mi avrai insegnato tutto quello che sai. Allora, come si apprende il budino di riso? Vediamo qua. Te lo faccio in diretta così ti emozioni. Guarda, il latte di yak. Mi serve. Oh, salve. Ho bisogno di mater... Devo farne cinque. Quindi cinque latte di yak. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque. Grazie, crea tutto. Arrivo a cinquecentoquaranta come skill. Illustre, gran maestro cuoco. Secondo me neanche tu ce l'hai questo cazzo di titolo, chef. Salute. Eh? Pronti per la grandezza? Sono un gran maestro. Guarda, chef. Adesso posso imparare le vie orientali della via della griglia, la via del wok, della pentola, della vaporiera, del forno e della birra. Iniziamo immediatamente con la via della birra. Super immediatamente. Anzi no, adesso le prendo tutte quante, vaffanculo. Tu non hai idea, chef, di cosa hai combinato. Fidati che non hai la minima idea. Guarda, guarda, tutte quante qua sono. A parte questa che non ce ne fote un cazzo. Qua tu mi insegnerai tutto quello che so, chef. Guarda, devi essere fiero del tuo lavapiatti, cazzo. Eh, so niente, devo andare dai vari... Dai vari insegnanti, questo per esempio dice via del wok delle carote crocosuccose e una volta che lo faccio loro mi danno la loro via, l'emblema e... Buon viaggio. E adesso praticamente dicono sì, carote trifolate. Toh. Desidero destrarmi nella via del wok. Sì, voglio fare le carote trifolate. Le posso fare le carote trifolate? Vediamo un po'. Toh, guarda quante ne posso fare. Troppe tipo. E quando ne faccio cinque, oltre a salire, come vedi, nella via del wok specifica, posso prendere... Spadellata della valle. Grazie. Mi ha dato un altro emblema che mi serve per comprare di nuovo ingredienti, praticamente. Tra l'altro, questo qua mi aveva detto che aveva bisogno di... Costato di tigre. Ora, se io vado qua, dovrei poter cercare nei fornitori se qualcuno ha costato di tigre. Vediamo un po'. Scalogno, stregobacche, meroni striati, cavoli verdi, zucco, zucchine... Sacchetto con costati di tigre. Mi costa un emblema che ne ho tipo sette, quindi posso fare così. Qua mi appare il sacchetto, lo apro. Dentro ce ne sono... Ok, cinque. Perfetto. E vado a risolvere la missione, che tra l'altro mi dà un altro emblema, tipo. E... Forte come una tigre. Costata di bla 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 bla. E di nuovo io posso andare qua e vedere che costata di... Oh, guarda, dieci costate di griglia mi dava, effettivamente. Posso effettivamente mettermi a grigliare tutto quello che trovo e di nuovo completerà le missioni. È fantastico! Non mi sono mai divertito tanto. Non mi sono mai divertito tanto. Non mi sono mai divertito tanto. Grazie a tutti.